Escluso dalle liste per far posto a Di Maio, certo che riparleremo di queste scelte dopo il voto del 25 settembre. E' un Luca Lotti amareggiato e per certi versi stupito dalle decisioni del PD in chiave candidature. Il leader della corrente base riformista con Lorenzo Guerini, in un'intervista sul quotidiano nazionale, punta il dito sul segretario Enrico Letta. Rivendico con orgoglio, dice Lotti, di aver contribuito alla nascita dei Dem, ma la coerenza in politica è merce rara, men che meno la riconoscenza. Secondo Lotti, una competizione come questa campagna elettorale avrebbe richiesto l'inclusione e non l'esclusione per motivi che molti hanno letto come personali. E adesso quale sarà lo scenario politico di Lotti? Nell'intervista il parlamentare Dem ribadisce il concetto che ora contano soltanto le elezioni, il risultato e non i personalismi. Ho sempre voluto, prosegue al QN, un PD che guarda lo sviluppo del territorio. Piuttosto capisco chi si chiede se a Firenze il partito è per l'aeroporto o no, viste alcune posizioni alquanto discutibili e ambigue. Ma anche di questo, conclude Lotti, torneremo presto a parlarne. Dopo il 25 settembre cambieranno molte cose nei partiti. Sempre sul tema della spaccatura, dopo l'esclusione di Lotti, il sindaco di Empoli, Barnini, parlando della candidatura di Dario Pardini, ha scritto in un post che esiste un territorio con un partito capace di mettere avanti a tutto l'unità e riconoscimento del merito. E grazie a questo metodo portiamo a casa una grande soddisfazione. Quando si fanno le cose per bene, prosegue il sindaco, si vede, tra le righe sembra esprimere un giudizio positivo sull'esclusione di Lotti.